Fumata nera per quanti si aspettavano una rivelazione da parte di Luca Ceriscioli sul sito dove verrà realizzato il nuovo ospedale provinciale. Bene il discorso nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano, il governatore delle Marche in un incontro organizzato dal PD ha ribadito la necessità e ne ha elencato le motivazioni per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera. Allora quali sono i punti essenziali di questo intervento che ti terrà qui al Teatro della Fortuna? La prima esigenza è quella in un percorso che è durato tanti anni ripuntualizzare le ragioni delle scelte perché se pensiamo che il tema dell'azienda unica è sostanzialmente del 2009-2010 sono passati sei anni da quando abbiamo iniziato quel percorso mettendo in fila tutte le motivazioni per cui bisogna mandare in quella direzione. Oggi distanza di tempo il rischio qual è? Che ci si scordi il motivo per cui si è partiti, tanto tempo è passato. Tempo colpevole perché è tempo che ci ha impedito di avere una struttura nuova di qualità dove contenere questa iniziativa. All'esterno del teatro presenti i picchetti di Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Lega Nord con cartelli e striscioni per dimostrare le loro rispettive posizioni sul tema sanità. Intanto all'interno dove si è andati ben oltre la mezzanotte si sono susseguiti i contributi di chi aveva chiesto la parola. Il sindaco di Fano, arrivato ad incontro inoltrato, ha ribadito l'idoneità del sito di Chiaruccia. Altri hanno espresso pareri contrari e perplessità sulla necessità di questa struttura ed il reperimento dei fondi necessari. E chi invece vede in tutto ciò una grande opportunità come i medici presenti all'incontro e che operano all'interno di Marche Nord, uniti dallo stesso pensiero. Fatelo presto e fatelo bene. Dal punto di vista dei siti, allora ne vennero accolti quattro dopo un percorso che erano quelli di Chiaruccia, di Fossoseiore, Moraglia e di Case Bruciate. Ritenuti idoni e quindi in grado di ospitare queste iniziativa, ognuno con le sue caratteristiche. All'inizio del mandato un anno fa ho chiesto alle amministrazioni comunali, soprattutto di Peserofano, ovviamente coinvolgendo tutto il territorio, di lavorare per trovare la convergenza. Perché alla fine, dal mio punto di vista, parliamo di spazi che stanno a dieci minuti uno dall'altro, quindi muovendosi, come ho fatto ieri l'altro, dentro Roma diventa veramente risibile quelle che per noi sono distanze incolmabili fra comuni. Questo lavoro purtroppo non ha dato risultati, non ci si è messo d'accordo. Il Consiglio regionale ha votato una mozione che invita a far rapidamente, a dire diamo un'ultima possibilità di vedere se c'è l'accordo, altrimenti comunque andare avanti. Quindi a oggi c'è ancora la possibilità per gli enti di trovare la quadratura del cerchio, di mettersi d'accordo, di fare un assetto, altrimenti dovremo scegliere valutando in maniera assettica le convenienze.